La grande macchina dell'accoglienza è partita. A Napoli, dopo l'insediamento della cabina di regia in prefettura, si comincia a definire il quadro complessivo delle informazioni utili alla gestione dell'emergenza a profughi. In poche ore sono già arrivate quasi 600 disponibilità alloggiative per gli ucraini che giungeranno sul territorio. I dati sono comunicati dall'assessore alle politiche sociali del comune di Napoli, Luca Trapanese. Il consolato ha generato un link già operativo al quale possono accedere tutti i cittadini ucraini in arrivo registrando i propri dati e segnalando eventuali richieste. I profughi saranno indirizzati inizialmente presso il Covid Residence dell'ospedale del Mare, dove è arrivata la prima famiglia. Vitali e Victoria hanno una bambina di un anno e otto mesi. Vitali lavorava come autista, per anni ha fatto la spola tra Ucraina e Italia per i suoi connazionali, ma quando è scoppiata la guerra ha avuto troppa paura ed è scappato per mettere in salvo la famiglia. Sono stato per lavoro nel solo italiano. Sapendo l'inizio della guerra sono andato in panico, ho chiamato la prima cosa alla mia famiglia, alla mia moglie con la minorenna, la bambina di un anno e otto mesi e l'ho fatto venire in Italia. La guerra in Ucraina è comunque una cosa brutta perché tante persone sono state messe sotto, sotto nessuna ragione. Il popolo sta soffrendo. La cosa che adesso mi turba è la mia famiglia. Ho una bambina di un anno e otto mesi, c'è la moglie giovanissima, adesso io penso alla famiglia.